è un natale atipico e questo lo sappiamo tutti però stare con voi è come se fosse sempre natale quindi grazie di esserci sempre e tanti tanti auguri dal vostro stefano dj stec ciao allora non è sicuramente un bel periodo però natale natale ragazzi quando arriva buon natale a tutti bella gente ciao 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 e sinceri auguri di un felice santo natale in questo anno buio che sia un po luminoso almeno la giornata del santo natale ciao 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 a tutti ciao ciao auguri da luciano ciao 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 eccomi qua sono mister pino dj country vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie un sereno natale che sia un felice natale e un sereno lockdown per tutti voi un saluto da scheggia tanti auguri grazie a tutti grazie a tutti